Salve a tutti ragazzi, PeroPlay è tornato su Youtube e anche su Twitch. Da stasera in avanti sarò in live su Twitch alle ore 20, il link ve lo lascio in descrizione ma anche a schermo. Quindi vi invito a followermi lì e a seguirmi qui nel canale. Ci diverteremo tantissimo, trasgustate, cercheremo di fare qualche eroica dell'ultima espansione e soprattutto rancheremo come delle belve. Quindi se volete vedermi e passare un po' di tempo in compagnia assieme, divertirci, farci quattro risalte e confrontarci vi invito, link in descrizione, canale di Twitch a seguirmi dalle 8 in poi stasera e per tutte le prossime sere. E ovviamente PS a 10 visual, ok? 10 persone online, quindi 11 in totale con me che guarderò, uscirò la faccia. Quindi state sintonizzati e ci vediamo alle 8. Ciao!